Cari colleghi, è un piacere condividere con voi quella che è la mia esperienza nel campo della medicina autologa rigenerativa. Innanzitutto vorrei chiarire quali sono le basi della tecnica SEFI e MicroSEFI, che sono le tecniche che io ho standardizzato e pubblicato. Le tecniche SEFI e MicroSEFI sono le tecniche base sulle quali si sono poi sviluppati i dispositivi medici della linea SEFI-Line. Prima di tutto dobbiamo dire che la staminalità dei nostri pazienti noi non la possiamo modificare, perché il contenuto di cellule staminali nel tessuto adiposo dei nostri pazienti dipende da fattori genetici, dall'età, dipende dallo stato di salute, delle abitudini di vita. Se noi immaginiamo il nostro paziente, il tessuto adiposo del nostro paziente come ad esempio un bicchiere e i chicchi di riso sono le staminali che stanno all'interno del suo tessuto adiposo, bene noi avremo pazienti con tante staminali, avremo pazienti con meno staminali e avremo pazienti con ancora una quantità diversa di cellule staminali. Quindi noi non abbiamo nessun modo per cambiare la quantità di cellule staminali, quindi la staminalità del tessuto del nostro paziente. Quello che noi possiamo fare è raccogliere questi chicchi di riso nel modo più efficiente possibile e poi nella diciamo nella manipolazione, nella preparazione del nostro tessuto prima di essere innestato dobbiamo cercare di conservare il maggior numero di questi chicchi di riso e la maggior integrità possibile appunto di questi chicchi di riso. Mantenendo la metafora del nostro bicchiere con i chicchi di riso, cioè il nostro paziente con le sue staminali all'interno, nei dispositivi medici CephyLine noi abbiamo una speciale guida che ci permette innanzitutto di andare a prelevare questi famosi chicchi di riso, queste cellule staminali dove ne abbiamo la maggior concentrazione. Sappiamo che il tessuto adiposo superficiale è più ricco in cellule dello stromal vascular fraction e quindi di cellule staminali. La nostra guida appunto guida il prelievo a una profondità di 15 mm sottocutaneo e qui noi sappiamo avere la massima concentrazione di cellule staminali. Inoltre nei dispositivi CephyLine noi abbiamo una speciale cannula che deriva dalla tecnica Cephy e Micro Cephy che va a selezionare dei gruppi cellulari, quindi dei gruppi di chicchi di riso molto piccoli. Quindi noi possiamo prelevare un tessuto come si dice a cluster piccoli, quindi a gruppi piccoli di cellule e quindi un tessuto molto fluido che quindi avrà bisogno di meno manipolazione quando dovremo prepararlo. Infine nel concetto dei dispositivi medici CephyLine la manipolazione, cioè la preparazione dei nostri famosi chicchi di riso è estremamente delicata, proprio perché siamo convinti che qualsiasi altro tipo di manipolazione dal filtraggio al macinare il tessuto al triturare il tessuto con vari sistemi porti inevitabilmente a danneggiare i nostri chicchi di riso, le nostre cellule staminali e in parte questi chicchi rimangono all'interno dei sistemi che servono per manipolare il nostro tessuto, ragion per cui alla fine avremo a disposizione meno chicchi di riso, meno cellule staminali da poter somministrare al nostro paziente. Un concetto molto importante nella medicina autologa rigenerativa è la fluidità del tessuto che noi andiamo ad innestare. È molto importante perché noi innestiamo il tessuto molto superficialmente proprio per migliorare l'attecchimento cellulare e migliorare l'azione delle cellule staminali nei tessuti. La fluidità è un concetto molto importante nella medicina autologa rigenerativa perché noi dobbiamo andare ad iniettare il tessuto negli strati superficiali e quindi è molto importante che questo tessuto sia estremamente fluido per poter essere innestato con piccoli aghi o piccole micro cannule. Ad esempio nel viso noi abbiamo aree con una pelle più spessa e con un sottocute più rappresentato, aree invece dove questa pelle è molto più sottile e un sottocute molto meno rappresentato. Ecco quindi che è fondamentale avere un tessuto a diverse fluidità per poterlo innestare nelle diverse aree senza rischi di inestetismi come irregolarità o visibilità del tessuto. Per questo motivo ho voluto standardizzare un sistema per poter cambiare, modificare la fluidità del tessuto prelevato attraverso una minima manipolazione senza usare nessun tipo di device, filtro o altri sistemi per ridurre le dimensioni dei cluster. Questo sistema prevede unicamente il passaggio delicato da una siringa all'altra del tessuto che viene precedentemente prelevato e lavato. Questi passaggi sono stati standardizzati in modo da poter prevedere le dimensioni dei cluster che noi otterremo a seconda dei passaggi da una siringa all'altra. Lo schema di questa procedura per la fluidificazione del nostro tessuto è il seguente. Noi preleviamo come sappiamo con una cannula che fornisce un tessuto a circa 800 micron, quindi impiantabile con un ago da 18 gauche senza nessuna fluidificazione. Però se abbiamo bisogno di un tessuto più fluido possiamo ridurre la dimensione del cluster a circa 600 micron attraverso due o tre fluidificazioni, due o tre passaggi da una siringa all'altra e questo ci permette di impiantare il tessuto con una micro cannula o con un ago da 20 gauche. Se vogliamo ulteriormente fluidificare il tessuto e quindi ridurre le dimensioni dei cluster potremo fare dai 5 ai 6 passaggi da una siringa all'altra. A questo punto noi avremo dei cluster di circa 500 micron impiantabili con una micro cannula con una siringa da 21 gauche. Se invece vogliamo ulteriormente fluidificare il nostro tessuto ed arrivare a dimensioni di cluster di circa 400 micron allora faremo 10 11 passaggi da una siringa all'altra e così potremo impiantare il nostro tessuto con un ago o una micro cannula di 22 gauche. Infine se vogliamo ottenere una massima fluidificazione e quindi impiantare il nostro tessuto con un ago da 27 gauche dovremo fare circa 20 30 passaggi da una siringa all'altra e in questo modo noi otterremo una dimensione di cluster di circa 200 micron. Abbiamo parlato della fluidificazione del nostro tessuto ovvero della dimensione dei cluster del tessuto che noi vogliamo andare ad impiantare. Ora a livello del volto dobbiamo andare ad analizzare in che piano andare ad innestare il tessuto. Iniziamo dalla regione temporale. Nella regione temporale l'innestro andrà eseguito a livello del piano sopra la fascia propria del muscolo temporale. A livello malare zigomatico invece il nostro tessuto lo andremo ad innestare nel sottocutaneo superficiale. A livello perioculare il tessuto andrà innestato sotto il muscolo orbicolare. Questo è molto importante per evitare qualsiasi possibilità di visibilità o di irregolarità. A livello periorale invece andremo a livello del labbro superiore e del labbro inferiore se vogliamo andare a correggere per esempio delle piccole rugosità come ad esempio il barcode l'innesto andrà fatto ad ago intradermico proprio per rendere al massimo la stimolazione attraverso i fibroblasti e la produzione di collage. A livello nasogenieno potremo andare ad impiantare il nostro tessuto a livello sottocutaneo superficiale o intradermico. A livello del labbro superiore ed inferiore andremo ad innestare il tessuto praticamente nel sottocutaneo praticamente all'interno del muscolo orbicolare. Per la zona invece mentoniera e laterale di sostegno nella zona delle marionette line cioè qui lateralmente a questo punto noi andremo ad innestare il nostro tessuto a livello sottocutaneo. Una cosa importante da tenere in considerazione è che noi stiamo innestando del tessuto biologico quindi è possibile che piccoli frustoli piccoli frammenti fibrotici possano andare ad occludere l'ago o la micro cannula. Quindi in questo caso vi consiglio di staccare la siringa dalla cannula della micro cannula liberarla dal frustolo fibrotico che molto spesso rimane proprio tra la cannula e la siringa e sostituire l'ago o la micro cannula. Quindi ricordatevi quando vi preparate a un trattamento di medicina autologa rigenerativa abbiate a disposizione qualche cannula o qualche ago di scorta perché può succedere durante il trattamento che questi si possano occludere. Buon lavoro!